Ragazzi, salve, buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Non ci siamo visti questa mattina, o comunque in orario di pranzo. Vi chiedo scusa perché solitamente adoro essere di vostra compagnia durante appunto quel momento in cui si fa un break e si può respirare un attimo prima di ricominciare il pomeriggio, ma questa volta non mi era possibile. Come ho già pubblicato nella sezione community di YouTube e anche su Instagram purtroppo, ho passato la mattinata al pronto soccorso perché ieri sera, mentre giocavo a calcio, ho subito un infortunio al ginocchio che non mi ha nemmeno permesso di dormire questa notte. L'ho fatto la notte in bianco per il dolore. Pensavo di essermi rotto tutto, per fortuna sembra essere soltanto una distorsione con lesione del collaterale esterno. Quindi adesso un po' di pazienza, un po' di tempo per rimanere fermo. Questa cosa mi farà saltare anche la finale di YouTuber League e mi dispiace tanto, mi dispiace veramente tanto perché la finale di YouTuber League è una roba che sarebbe piaciuto giocare, ovviamente, vivere proprio come evento, concentrarmi su quella partita lì. Non mi sarà possibile farlo, ma soprattutto dovrò rimanere fermo in generale anche da quella che è la mia squadra, dato che mi sono fatto male in campionato, in un freddo e nebbioso lunedì sera di calcio amatoriale, dove per prendere posizione su una palla alta ho appoggiato il piede a terra, i tacchetti sono andati nel terreno, purtroppo il ginocchio è andato da una parte, io dall'altra. Si è sentito un crack fortissimo, quasi come un ramo che si spezza, e io ho iniziato a urlare perché non ci capivo più niente. Poi la sensazione è stranissima di non riuscire nemmeno ad appoggiare il piede, è impossibile sostenere il peso, e nel mio caso c'è anche un bel peso da sostenere, e poi la notte è un po' così, e la mattinata è un po' così. Vi chiedo scusa per intanto avervi rubato questi due minuti di tempo prima del video, non ve ne potrà fregare di meno, però mi piace sempre informare la mia community per quelli che sono magari dei problemi tecnici come un ritardo di un video, e vi chiedo scusa perché magari non me ne frega neanche niente di quello che è accaduto, però ripeto, mi piace sempre informare, anche un po' più a 360 gradi, perché secondo me non è solo parlare di calcio, perché se no di calcio parlano tutti, e se tante persone hanno piacere essere qua è perché probabilmente sono legate anche a qualcos'altro, non soltanto al parlare di calcio. Ragazzi, abbiamo da discutere un paio di argomenti che mi sono preparato tra ieri e oggi in ospedale, purtroppo ho cercato di fare una sorta di scaletta del video che volevo fare, partendo dal Napoli, situazione allucinante, ricorderete che avevamo fatto una live che oggi purtroppo salterà, cercheremo di recuperarla domani, la live di oggi, avevamo fatto una live in cui parlavamo di quanto potesse essere assurda la scelta di Mazzarri, scelta che non è nemmeno stata difesa dal presidente che è andata a prendere questa scelta, un po' così, e alla fine vanno a inserire in organico Calzona, che aveva già lavorato Napoli con Sarri e con Spalletti, però credo che sia l'ennesimo tecnico, l'ennesima figura che viene gettata in pasto a una serie di decisioni rivedibili, secondo me, o comunque non proprio meravigliose, diciamo così. E dato che stamattina mi è apparso su Twitter un po' di notizie che riprendeva la prima pagina di Tutto Sport, cerchiamo di parlare di questa cosa, perché la prima pagina di Tutto Sport è la seguente. La crisi in campionato rilancia il dilemma tecnico, Juve meno Allegri. L'allenatore continua a essere al centro del mondo bianconero, i tifosi si spaccano, La società conferma fiducia totale, ma rinvia a fine stagione il discorso sul rinnovo. Max lo preferirebbe subito, però non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Insomma, ragazzi, diciamoci la verità. Parlare di rinnovo di Allegri in questo momento, secondo me, è eccessivo, a maggior ragione se facciamo passare come notizia quella che sembra essere una rubrica, semplicemente un'editoriale di un giornalista di Tutto Sport. Anche perché, banalmente, secondo me, quella che è la ricostruzione è una ricostruzione che fa acqua da tutte le parti. Perché andiamo ad analizzare quello che c'è scritto, effettivamente. C'è scritto che da una parte l'allenatore, che magari è sulla graticola da parte di alcuni tifosi, ha assolutamente la fiducia della società. La società conferma fiducia totale. Ma la fiducia che è totale fa rinviare a fine stagione il discorso sul rinnovo. Se la fiducia è totale, secondo me, prendi carta e penna, la fiducia è totale, e sottoponi il rinnovo del contratto al tecnico che poi può decidere di accettare oppure no. Però se la società ha fiducia totale, carta, penna, non c'è bisogno di aspettare fino a stagione. Se la fiducia è totale. Se si aspetta, probabilmente la fiducia non è totale. Ma, ripeto, questo è un'editoriale, quindi è una ricostruzione, no? Di quella che potrebbe essere la verità. Dall'altra parte dicono, Max lo preferirebbe subito. Quindi, da una parte abbiamo la fiducia totale della società, che però non sottopone il contratto ad Allegri e vuole aspettare. Dall'altra, Allegri che lo preferirebbe subito, ma che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Ma scusa, ma allora perché lo preferirebbe subito se non ha preso una decisione sul suo futuro? Abbiamo la fiducia totale, ma il rinnovo non te lo faccio. È Allegri che lo vuole, però non ha deciso. Sinceramente questa è una ricostruzione che non riesco a comprendere. Al di là di tutte le preferenze, uno può dire per me è Allegri l'uomo giusto, per me è Allegri non è l'uomo giusto, per me è Allegri è fortissimo, per me è Allegri scarsissimo. quello che volete. Però quella che è la ricostruzione di oggi di tutto sport è che è chiacchieratissima all'interno di un Twitter che parla di Conte, Bayern Monaco e poi smentite, conferme, smentite. A me sembra fare acqua da tutte le parti. Perché se c'è fiducia totale nella Juve e c'è la volontà di Allegri, non si aspetta fine stagione e Allegri non deve decidere. Mi sembra banale, lineare. Del resto, tutto il resto è, secondo me, noia. Sono tutte cose che non hanno invece senso. Invece per la seconda parte di questo contenuto volevo prendere in considerazione una discussione che proprio ieri avevo portato sul mio Twitter. Perché secondo me quando le cose vanno bene non ha senso andare a toccare. Ricorderete che vi avevo detto, per me Allegri non andrà a toccare il 3-5-2 per inserire una punta in più. Perché comunque le cose stanno andando bene e rimarrà su quell'ordine e al massimo inserirà Ildi, Zocchiesa o chi per loro a partita in corso cercando una soluzione in più se le cose dovessero andare male per un certo periodo di partita. Ecco, non mi immaginavo questa crisi della Juventus dal punto di vista dei risultati. Dei risultati. Però in questo momento la Juventus non sta andando bene. In generale. Quindi confermare il 3-5-2 potrebbe non essere necessario. E allora io volevo ragionare un po' insieme a voi su quella che potrebbe essere una soluzione di difesa 4. Parto da un presupposto. Per me la Juventus sulla linea dei 4 ha dei grandi problemi. Dei grossi problemi. A maggior ragione perché in questo momento Danilo è out. Danilo ha appunto questo trauma alla caviglia che per un paio di settimane almeno lo terrà lontano dai giochi e quindi la Juventus dovrà fare a meno del suo capitano e quindi potrebbe banalmente essere sostituito nelle gerarchie da Alexandro come avevamo letto nelle ultime ore. Ma secondo me si può fare anche qualcosina di meglio. Poi è ovvio che immaginarmi Alexandro o Desciglio titolari nella difesa 4 come terzini un pochino mi dà noia. Quindi mi piacerebbe di più immaginarmi una soluzione di questo tipo. Però perché questa soluzione potrebbe non essere adatta? Intanto perché Kostic non è un difensore da linea 4 non lo è assolutamente è un giocatore che gioca dal meglio di sé come quinto anche se nel 3-5-2 del Ligri in fase difensiva fa effettivamente il terzino ma fa il terzino nei 5 non nei 4 e comunque stiamo vedendo tantissime sbavature difensive di Kostic da questo punto di vista. E dall'altra parte cambiaso. Bremer non è un difensore da difesa 4 però già in questa stagione Bremer ha imparato a difendere più indietro quindi se Bremer che era un giocatore molto offensivo che andava a difendere in avanti impara a difendere indietro per me può benissimo imparare anche a giocare allora nella difesa 4 è soltanto questione di tempo. E al suo fianco gli metto Rugani perché secondo me all'interno del roster della Juventus è il miglior giocatore per andare a formare la difesa 4 senza Danilo. Lì si poteva mettere anche Gatti però secondo me Gatti dal punto di vista difensivo è molto più pasticcione rispetto a Rugani quindi io mi immagino Rugani in quella posizione. Ildis a sinistra perché lui adora partire a sinistra e chiesa a destra. Noi questo tridente ancora non l'abbiamo visto perché quando abbiamo fatto il tridente abbiamo alzato Cambiaso a destra con chiesa a sinistra e Ildis a centrocampo. Questa è la lettura dell'Egre già due volte che inserisce Ildis come mezzala una volta a destra una volta a sinistra non è il suo ruolo non è il suo ruolo ma Ildis può giocare esterno nel tridente? Punto di domanda risposta per me e sì con chiesa che può giocare anche indistintamente a destra. Il centrocampo invece è quello titolare del 3-5-2 e andrei a mantenere quello anche se c'è la possibilità anche di schierare McKennie come terzino a destra e quindi Cambiaso a sinistra per cercare di rimediare a quello che potrebbe essere il problema costici di cui parlavamo prima. Però perché questi 11 giocatori? Perché già nella prima volta nel primo mandato di Allegribis primo anno di Allegribis noi avevamo visto una Juventus che con la difesa 4 andava ad impostare a 3 facendo semplicemente abbassare Locatelli sulla linea dei difensori che andavano ad aprirsi quindi Bremer diventerebbe il braccetto centrodestra e Rugani centrosinistra con Costice e Cambiaso che invece vanno ad alzarsi sulla linea dei centrocampisti e quindi Costice e Cambiaso diventerebbero dei quinti a tutti gli effetti cosa che già fanno in questo momento e alla fine andresti semplicemente a perdere roba non da poco per quella che è il modo di intendere il calcio di Allegri un centrocampista in favore di un attaccante però ripeto se le cose in questo momento non vanno bene dal punto di vista difensivo o comunque soffri probabilmente devi cercare di migliorare quello che è il tuo punto di vista offensivo e si fa anche in questo modo non dico solo perché ovviamente aiuterebbe avere un'idea un po' più lineare di quello che dovrebbe essere il movimento del pallone però sicuramente se metti chiesa indice bravo i cili davanti qualcosa te lo possono tirar fuori Allegri quando ha una difesa 4 solitamente difende 4-4-2 oppure 4-4-1-1 che non mi fa impazzire come opzione però potrebbe abbassare o Rabiot come esterno di sinistra nel centrocampo a 4 e quindi facendo scendere chiesa a destra oppure McKennie dall'altra parte a destra facendo scendere indice a sinistra e difendere 4-4-1-1 ripeto a me non piace nessuna delle due opzioni perché chiese Ildis chiedergli quel tipo di lavoro di sacrificio secondo me è un po' eccessivo anzi a me piacerebbe lasciarli alti pronti alle ripartenze però spesso e volentieri abbiamo visto fare questa cosa da Allegri tutte le volte che difendeva con una difesa 4 cercava di fare queste due linee da 4 lasciare due giocatori invece davanti c'è una possibilità che mi ha fatto venire in mente Nicolò su Twitter che è diversa leggermente diversa ed è quindi quella di inserire Gatti ma come terzino di destra per me si può fare assolutamente perché Gatti è un giocatore che comunque anche quando fa il braccetto di destra effettivamente in conduzione va tante volte su porta il pallone vicino all'area di rigore avversaria non è uno che spinge nel vero senso la parola alla zambrotta per intenderci però è un giocatore che tante volte porta su effettivamente il pallone in conduzione però perché questa cosa poi funzionerebbe meno semplicemente perché se Glocatelli si abbassa e si alza agli esterni Gatti dovrebbe fare l'esterno di centrocampo che non mi sembra assolutamente la sua posizione concludo dicendo che il 4-3-3 di partenza che avevamo visto in realtà potrebbe essere visto anche come un 4-3-1-2 con Ildis trequartista e con Chiesa Vlaovic in attacco e il rombo è una soluzione che Allegra ha utilizzato sia al Cagliari lo ricorderete con Costo trequartista sia al Milan lo ricorderete con Robinho trequartista forse anche Ronaldinho a un certo punto non mi ricordo alla Juventus il primo anno con Vidal dietro a Morata e Tevez quindi l'ha già usato in tutte le sue precedenti avventure e l'aveva già un po' spolverato sempre nel primo anno di Allegri Bis in un bruttissimo Juventus Sempoli 0-1 dove forse gli attaccanti erano Chiese Di Bale e il trequartista era McKennie qualcosa di simile insomma una partitaccia bruttissima da dimenticare però è ovvio che Ildis ha una qualità diversa da McKennie sulla trequarti indubbiamente e che all'epoca sembrava mancare una punta perché Di Bale chiesero a due giocatori che difficilmente andavano a riempire l'area di rigore e Vlaovic da questo punto di vista potrebbe aiutare quindi una possibilità in più anche al 4-3-1-2 potrebbe essere data semplicemente chiedendo a Ildis di giocare molto più tra le linee rispetto invece a quello che fa in questo momento cioè partendo più da sinistra voglio sapere le vostre considerazioni cambiamento nelle ultime 12-13 quante sono 14 partite di campionato e soprattutto la vostra lettura su quello che è l'editoriale di tutto sport legato al rinnovo dell'Egli per me quella prima pagina ha poco di cui discutere perché banalmente un secondo me finisce così cioè non è una notizia secondo me è così quindi fatemi sapere anche la vostra perché letta in questa maniera secondo me una roba del genere ha ben poco da raccontare ciao